Ben ritrovati amici del Centrometro Italiano. L'ultima settimana di giugno, stando agli aggiornamenti dei modelli, potrebbe risultare molto calda in Italia e in Europa. Per l'inizio della prossima settimana il modello GFS mostra questo vasto e robusto anticiclone africano in elevazione tra Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centrale. Notevoli le temperature alla quota di 1.500 metri circa, con punte anche di 26-28 gradi. Ondala di caldo piuttosto intensa, confermata anche dal modello ECMWF ma con valori di temperatura meno estremi. L'asse principale dell'anticiclone sembrerebbe comunque sul Mediterraneo occidentale, con caldo dunque maggiore per le regioni del centro-nord. Anche se ancora presto per scendere in questi dettagli non si escludono punte prossime ai 40 gradi su pianura padana e zone interne del centro. Se confermata, si tratterebbe della più intensa ondala di caldo di questo giugno e probabilmente di una tra le più calde di sempre. Trattandosi di una tendenza, seguite allora sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, tutti gli aggiornamenti per la fine di giugno. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.